Siamo a Milano, tutto food stand della regione Campania. Facciamo vedere un po' le aziende campane presenti nello stand della regione. Uno degli eventi del food più importanti in Italia, non solo in Italia ma anche in Europa, perché qui confluiscono migliaia di aziende e ovviamente migliaia di operatori interessati all'acquisto e alla rivendita di prodotti. Vedete aziende di vino, aziende di pasta, pomodori e quant'altro. C'è un po' di aziende della Campania. C'è un po' di tutto. Come vedete, non manca ovviamente il caffè, che non può essere diversamente. Non manca il baccalà, i prodotti di eccellenza. Ovviamente c'è molta gente, nel friomento si lavora a pieno ritmo. fiori eduli, insalate, quant'altro. I grandi prodotti della pomodori della piena, quello vero, non quello finto. Come vedete c'è il meglio della produzione della Campania e su questo ha lavorato ovviamente la regione, l'assessorato, che chiaramente ha fatto un bando come fa per tutte le fiere e ha portato praticamente qui il meglio. Come vedete, pasta di gragnano, pomodori, non solo pomodori, ma anche altri prodotti di eccellenza. Abbiamo De Mart, altro prodotto della Campania, ovvero oli. Non poteva mancare anche una birra artigianale, facciamola vedere tra l'altro con elichette fatte appositamente da una scuola di grafica per loro. Ancora un'altra eccellenza della Campania. Qua abbiamo un caseificio a Versano con i suoi bei prodotti. Come vedete Campania non si fa mancare niente, la nocciola. E qua poi i chicche ce ne sono anche qua con prodotti veramente di grande importanza. Qua abbiamo Barlocca, abbiamo una scuola in visita, come potete vedere, che sta spiegando ai ragazzi le eccellenze di questa grande azienda. Qua invece abbiamo Pastai Spini, un'altra azienda FPD, con i suoi prodotti. Qua tamarù, sale e andiamo a chiudere il nostro giro olive, un altro grande prodotto presente in questa piera di Milano. E siamo tornati al punto di partenza, alla fortezza. E al lavoro, come vedete, poi ci sono buyer e quant'altro. Bene, dallo stand della regione Campania, tutto food Milano e tutto per in verità strutture.